Olivetti compromessi dopo la grandinata, danni alle piantagioni nella zona del cratere, i sindaci di Colletorto e San Giuliano di Fuglia pronti a chiedere lo stato di calamità raccolto distrutto per l'80%. Progettare le scuole su siti sicuri, l'ordine dei geologi prende posizione dopo il protocollo di intesa al comune di Campobasso, gli edifici dicono devono essere costruiti tenendo conto del sottosuolo. Stangata di ferragosto sulle bollette dell'acqua, in arrivo a Isernia la richiesta di pagamento dei consumi del 2012, dopo 5 anni di sospensione il comune ha messo a ruolo le bollette. Tra i paesi del Molise per le serate d'estate, pienone nelle località turistiche di mare e montagna, ma anche i paesi si organizzano e chi resta trova sagre appuntamenti culturali e buona cucina. Campionato di Serie D si parte il 3 settembre, il Campobasso a Selvapiana con la San Giustese, l'Agnone al Civitelle con il San Nicolò. Per la Coppa Italia il Campobasso debutta a Cassino per il preliminare. Saluto a tutti voi dalla redazione, ben trovati all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Dunque, dopo i giorni di gran caldo dell'AFA è arrivato anche il maltempo, in particolare nella zona dell'immediato entroterra della costa. Una violenta grandinata ha colpito tutta l'area nel fine settimana. I danni maggiori però si contano nell'area del Frentano, in particolare negli Oliveti di Colletorto e di San Giuliano di Puglia. Qui i sindaci sono già pronti a chiedere lo stato di calamità naturale. Nel servizio di Fabrizio Occhionero le immagini e il resoconto dell'accaduto. Mezz'ora di caos nelle campagne, pioggia, vento e poi la violenta grandinata che non ha risparmiato gli Oliveti e altre colture. Questo il video girato in pieno agosto da una residente di contrada vicenne a poca distanza dal paese. La scia del maltempo lampo dello scorso fine settimana si fa ancora sentire nei campi dove gli agricoltori continuano a stimare gli ingenti danni. Le campagne della difesa in territorio di Colletorto sono quelle più colpite dalla grandinata, ma anche nei centri limitrofi come Bonefro e San Giuliano di Puglia sono stati segnalati danni. Una quantità impressionante di olive a terra ormai recuperabili, tutto ben invisibile durante i sopralluoghi effettuati nelle ultime ore nelle contrade del territorio. Dannissime, quasi l'80%. L'uliva sta qua, sta tutta a terra e non abbiamo più risorse di andare avanti. Perlomeno è la prima volta, pure qualche volta è capitata ma poco, invece questo è capitato assai quest'anno. Circa il 70-80% di danni. Speriamo che il governo regionale fa qualcosa, si muove in una certa direzione. I sopralluoghi continuano e si valutano possibili misure e aiuti economici previsti in questi casi e a determinate condizioni legate all'entità dei danni come interventi finanziari a sostegno delle aziende agricole. Il comune di Colletorto invita gli operatori a segnalare i danni. Chiediamo alla regione riconoscimento dello stato di calamità, ha affermato il sindaco Carlo De Simone, evidenziando anche gravi conseguenze sulla rete viaria interpoderale. Diverse strade hanno subito ulteriori danni, rendendo più difficili collegamenti tra le contrade. Anche il sindaco di San Giuliano di Puglia, Luigi Barbieri, ha trasmesso la richiesta alla regione. L'intero territorio è stato interessato dalla grandinata, ha spiegato, e i cittadini possono segnalare i danni alle culture per quantificare la stima completa dei danni provocati da questa improvvisa ondata di maltempo. Parliamo di sicurezza negli edifici scolastici perché l'ordine dei geologi interviene sul protocollo di intesa, firmato di recente tra il Comune di Campobasso, l'Associazione dei Costruttori Edili e l'Ordine degli Architetti della provincia. Gli edifici, dicono i geologi, devono essere costruiti tenendo particolarmente conto delle condizioni del sottosuolo e delle relazioni tecniche dei geologi stessi. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. La sicurezza prima di tutto lo ricorda l'Ordine dei Geologi del Molise in riferimento alla recente stipula del protocollo di intesa scuole sicure tra il Comune di Campobasso lancia l'Ordine degli Architetti della provincia di Campobasso. Un accordo che prevede la realizzazione di nuovi edifici scolastici che, secondo l'Ordine dei Geologi, dovrebbe rappresentare il punto di svolta e l'inversione di rotta rispetto a quanto è accaduto nel recente passato. La ben nota vicenda delle materne di via Sant'Antonio dei Lazzari di via Berlinguer, progettate senza la necessaria consulenza di un geologo incaricato dal Comune, ha portato alla ribalta anche nazionale il tema della sicurezza delle scuole del capoluogo, ha ricordato il Presidente dell'Ordine. In effetti, in occasione dell'inaugurazione dei due nuovi plessi scolastici, non mancarono le polemiche sollevate soprattutto dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che avevano posto l'attenzione sui progetti delle due opere che non erano accompagnati dalle relazioni geologiche. Il Comune ci mise una toppa chiedendo alla ditta esecutrice dei lavori di produrre documentazione sulla qualità geologica del sito, ma la polemica non si è esaurita se è vero come è vero che l'Ordine dei Geologi è tornato nuovamente alla carica sollecitando il proprio coinvolgimento nella realizzazione dei nuovi plessi. La scelta del sito più donio ad ospitare un edificio scolastico, ha spiegato il Presidente, la determinazione della qualità geologica del sottosuolo per il corretto dimensionamento delle fondazioni della struttura, sono solo alcuni importanti aspetti di cui si occupano i geologi propedeutici ad una corretta progettazione degli edifici. Ci auguriamo, ha concluso il Presidente dell'Isio, che questa volta, visti i precedenti, saranno prese nella dovuta considerazione queste criticità. L'appello è che, d'ora in avanti, gli edifici scolastici vengano realizzati su un luogo sicuro, essendo Campobasso terra altamente sismica. Non ci si può affidare al caso o alla buona sorte quando si tratta della sicurezza dei bambini e di quanti lavorano all'interno delle scuole. Sarà un ferragosto amaro per gli abitanti di Isernia. Infatti, dopo cinque anni di sospensione dei ruoli, il Comune di Isernia ha messo in pagamento le bollette dei consumi idrici del 2012, una stangata per tutte le famiglie della città all'indomani della decisione di Palazzo San Francesco, tra l'altro, di non aderire a Legam, l'ente che gestirà il servizio idrico della Regione. Ora andiamo a Santa Croce di Magliano. Per la prima volta è stato celebrato un matrimonio tra una coppia di migranti che sono arrivati in Molise e che soggiornano nello Sprar Casa D'Amico, attivato dalla Caritas Diocesana del paese. Il matrimonio si è svolto con il rito civile. C'era anche la nostra telecamera. Vediamo. Da quasi due anni vivono a Santa Croce di Magliano, dove sono ospiti del progetto Sprar Casa D'Amico per richiedenti asilo e rifugiati. Richard e Blessing si sono integrati nella comunità, dove la Caritas di Termoli Larino ha attivato diverse iniziative. Per la coppia originaria della Nigeria, quello del 13 agosto resterà un giorno da ricordare. Sono genitori di due bambini, prosperi di un anno e junior di due, e si sono sposati con rito civile al Museo di Arte Contemporanea Sacrocam. Lo scambio delle fedi e loro sì davanti al sindaco Donato D'Ambrosio, accompagnati dai testimoni Giovanni Di Rosa e Marilisa Giordano. In sala gli operatori dello Sprar e diversi cittadini che hanno condiviso un momento di incontro e integrazione. Santa Croce è un piccolo paese, però c'è tutti. Certo di cosa, ospitali, io non sono dimenticato così, perché come oggi, tu ho visto come persone che vengono, tutti un po' anziani, anche gentili, loro è facile, sono così. Il progetto Sprar, casa d'amico gestito dalla Caritas Diocesana, può ospitare una ventina di migranti negli appartamenti disponibili in paese. Ci sono sei operatori, tutti giovani del posto e un coordinatore. Numerose le iniziative organizzate in collaborazione con la parrocchia, il comune e le associazioni. La cosa molto interessante è l'accoglienza che abbiamo trovato, perché questo matrimonio, innanzitutto dagli invitati vediamo come c'è buona parte della popolazione di Santa Croce e soprattutto la popolazione si è occupata di trovare le fedi, i vestiti, i testimoni. Quindi veramente noi Sprar abbiamo dovuto lavorare pochissimo per questo matrimonio, perché è stata la popolazione a organizzarlo e aiutare gli sposi. Dopo il rito il corteo ha raggiunto la chiesa di Sant'Antonio di Padova, dove don Alessio Rucci ha benedetto gli sposi e i bambini che sono stati battezzati proprio a Santa Croce di Magliano, una giornata speciale che si è conclusa con un momento di festa e condivisione al centro comunitario. Una comunità che per l'ennesima volta dimostra di aprirsi e dimostra di saper fare integrazione e di saper accogliere. È un momento importante ed un grande segnale, passatemi il termine, in un piccolo punto dell'Europa, oggi si fa una vera politica di integrazione. I love my wife. Bene auguri agli sposi di Santa Croce. Passiamo invece a un altro avvenimento che comunque ha un richiamo di carattere sociale, perché Peterella Tifernina, dopo le polemiche degli ultimi giorni che lo avevano investito, ha attribuito la cittadinanza onoraria a Franco Valente. ce ne parla in questo servizio Cristina Nero. Se c'è un gioiello nell'arte italiana, si trova ad una ventina di chilometri da Campobasso in un paese abitato da poco più di mille abitanti, ma celebre per molteplici aspetti, il più importante è la sua basilica dedicata al patrono San Giorgio Martine e il comune è quello di Peterella Tifernina. Culla di arte e cultura, ancora tutta da scoprire, vanta la presenza di un monumento nazionale che ha catturato negli anni l'attenzione di numerosi esperti e studiosi. Franco Valente, architetto storico e studioso di Venafro, la valenza di questa basilica l'ha percepita da subito, ancor più quando il suo acume ha cominciato ad esplorare e studiare sin dalle sue origini questo duomo che parla al visitatore, già soltanto scrutandolo. Non a caso il libro di Franco Valente presentato all'Expo di Milano si chiama Le Pietre Parlanti e questa mattina in questa basilica l'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Alessandro Moroso all'architetto, ha conferito la cittadinanza onoraria e le chiavi del paese. Nessuno mi aveva detto niente, poi il sindaco mi ha telefonato un paio di giorni fa, mi ha detto che in occasione di questa ripresentazione del libro mi avrebbe fatto questa sorpresa. Per me è un motivo di grande orgoglio, non solo perché cementifica un rapporto con Petrella che oramai comincia ad essere antico, Petrella è una comunità bellissima, una comunità nella quale fa piacere stare e quindi adesso far parte di questa comunità per me è una grande soddisfazione. Credo che tutto derivi dal fatto di aver scritto questo volume che oramai è abbastanza conosciuto sulle pietre parlanti di San Giorgio a Petrella di Fernina. Un volume con il quale Franco Valente ripercorre la storia di questo monumento attraverso la lettura dei suoi caratteri storici e architettonici che rivelano un misticismo dal quale si è inevitabilmente pervasi. Quindi ora come cittadino onorario di Petrella avvertirà l'onere, l'onore di dover proseguire nei suoi studi. Adesso sono doppiamente responsabile perché come cittadino mi devo preoccupare di conoscere la comunità, di conoscerla ancora meglio, ma soprattutto come cittadino di conservare e di stimolare un interesse maggiore per questa bellissima basilica che ha sempre bisogno di manutenzione, ha sempre bisogno di attenzione e ha sempre bisogno di essere conosciuta nei minimi particolari. Ad aprire la cerimonia il parroco Don Domenico di Franco, commosso ed entusiasta per l'attenzione riservata al monumento di Petrella e cita l'immagine che conserva di Valente quando insieme al sindaco Alessandro Amoroso lo vide arrivare carico di uno zaino che conteneva i volumi editi sulle pietre di San Giorgio a Milano per presentarli al mondo intero. Il 14 di ogni anno, nel mese di agosto, festeggiamo gli emigrati che rientrano a Petrella, quindi un momento di incontro e Franco oggi parlerà della chiesa di Petrella come solitamente fa in qualsiasi occasione dove lui possa parlare e parlare di arte del Molise parla della chiesa di Petrella. Questo è uno dei motivi per il quale abbiamo pensato come amministrazione comunale condividendolo anche con Don Domenico di Franco di conferire la cittadinanza onoraria a Franco Valente. Alessandro Amoroso, giovane sindaco al suo primo mandato, ammette che amministrare i piccoli centri oggi non è semplice e per questo non smette di ringraziare i suoi concittadini che collaborano quotidianamente al mantenimento di una identità viva e di una cultura da esportare. E si parlerà di arte con Vittorio Sgarbi nello spettacolo in programma stasera al Teatro Italico di Pietrabbondante con le emozioni in cornice, un viaggio multisensoriale su Shakespeare tra pittura e parola. Un percorso che si snoda tra la pittura generata dall'opera di Shakespeare e la lettura di alcune opere i cui frammenti sono tratti da Macbeth, da Amleto, da Romeo e Giulietta, Antonio e Cleopatra, Enrico VIII, Giulio Cesare, l'orazione funebre di Marco Antonio e la tempesta. E mancano pochi giorni a Frammenti d'Antico, appuntamento centrale dell'estate di Bagnoli del Trigno con la sfilata storica e tanti eventi di cui ci anticipa il programma, il servizio di Giuseppe Carriera. Da 23 anni Frammenti d'Antico conquista sempre e si rinnova confermando il suo fascino grazie alla compagnia di cultura popolare La Perla del Molise, preseduta dal dottor Franco Mastro Donato. Venerdì 18 agosto dalle 17.30 si accenderanno dunque i riflettori su Frammenti d'Antico. La sfilata del corteo storico lungo le strade del paese, con la straordinaria partecipazione di Roberto Farnesi, affermato attore di cinema e tv, dal ruolo di Andrea Fiore in Solo per amore, Destini incrociati, andato in onda solo qualche mese fa su Canale 5, alle Tre Rose di Eva, Carabinieri e Centovetrine, sono circa 20 le serie amate dal grande pubblico in cui è stato protagonista. Il bellissimo della tv sarà impegnato nel ruolo del duca, affiancato da Benedetta Belmonte, Miss Molise 2016. Venerdì 18 agosto dalle 18.00 il duca e la corte attraverseranno in corteo tutto il paese, indossando gli splendidi costumi ispirati all'epoca, firmati dalla stilista di fama internazionale Paola Donofrio, di origini bagnolesi. Dalle 20 del 18.00 nel rione di Santa Caterina si accende invece la festa nel borgo, un percorso attraverso vicoli e suggestive piazzette, articolato tra numerose aree di spettacolo e oltre 20 stand gastronomici con le migliori espressioni delle tipicità bagnolesi, dallo scarcio, gustosa frittella preparata al momento, fino al maciuc, latticino fresco di latte locale, passando per pietanze da nomi fantasiosi o giocherelloni e piatti più robusti come le pappardelle al sugo di cinghiale, lo scattone o la ciammaruga golosa, piatto di lumache con particolare condimento. Da evidenziare tra le novità anche remazzafor, semplice ma gradita pannocchia di mais arrosto, una delle particolarità di questa edizione sarà la possibilità di scoprire per chi non l'avesse mai assaggiato e di degustare l'ippocrasso, una bevanda di epoca medievale a base di vino e erbe aromatiche. Tra le 21.30 alle 22.00, una delle principali novità di questa edizione 2017, scenderanno in piazza Olmo i protagonisti dell'antica maschera dell'uomo orso di Elsie. Dalle 23.30 in poi, una successione di momenti emozionanti capaci di lasciare senza fiato i visitatori che raggiungono Bagnoli del Trigno il 18 di agosto. Il volo della fata, accompagnato da luci e fuochi perotecnici dal castello e fino alla piazza sottostante. Di seguito, la Dodda, corteo del corredo della sposa, e lo Ius Pimenoctis, il diritto alla prima notte, vera e propria angheria del Duca, che sancirà la rivolta del popolo e sarà da preludio al gran finale con l'incendio artistico del castello San Felice. Oltre 20 minuti di magie e di fuochi d'artificio firmati dalla nuova arte epilica dei maestri Remo e Giuseppe Parente. Francesco Mammola, Folk Band, Fortin Strings, Compagnia Teatrale Cast, Alberi Sonori, sono soltanto alcuni dei nomi in cartellone per questa edizione. Con loro il gruppo Voria, i giullari di Davide Rossi, i santandonari di Campobasso, i musici e gli sbandieratori di Lucera, e la partecipazione del gruppo folk Le Bangale di Baranello. Ma tutto l'abitato di Bagnoli sarà da scoprire. Novità assoluta e caratterizzante della manifestazione saranno i banchi degli antichi mestieri, ben dieci postazioni in cui troviamo ricostituite perfettamente ambientazioni ispirate alla storia e alla vita contadine e popolare, ma anche scene e macchine di epoca medievale. Dal ceramista al maestro Pellaio, dal speziale al cerusico e non mancheranno le sorprese. Venerdì 18 agosto, dal pomeriggio a notte, Bagnoli del Trigno si prepara dunque ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni, con una organizzazione logistica e di accoglienza appositamente strutturata. Un altro degli appuntamenti attesi dell'estate per gli amanti stavolta della buona cucina, la sagra della polenta e del mazzafurro, cioè della pannocchia di mais, che si svolge stasera a San Pietro in valle. Due le varianti per la polenta bianca e rossa con la salsiccia e con il soffritto di maiale, nome tradizionale della pannocchia di mais bollita o arrosto, che è uno dei simboli della manifestazione di questo borgo alla periferia di Frosolone. Musica dal vivo a completare l'evento, che rappresenta un'occasione proprio per scoprire questo piccolo agglomerato di case che è San Pietro in valle. A San Pietro Avellana invece immostra il tartufo nero e il servizio di Sergio Di Vincenzo. È un annato un po' particolare perché c'è stato un sacco di secca, quindi di tartufo non ce n'è stato molto, però comunque la qualità è buona. Non è, diciamo, la piazzatura non è tanto grande, però la qualità è buona. Gli operatori del settore hanno visto annate migliori di questa, ma è andata male fino a un certo punto. I tanti visitatori che hanno partecipato alla ventottesima edizione della Fiera del Tartufo Nero di San Pietro Avellana, anche quest'anno hanno potuto contare su un prodotto di assoluta qualità. C'è chi ha fatto la scorta agli stand, riportandosi a casa salse, pasta, salumi, formaggi e altri prodotti a base di tartufo e chi invece ha preferito sedersi a tavola per gustarlo fresco sul riso, sulla carne e persino sul dolce. Ottimo, sì, molto buono. Allora il Molise esiste? Eh, noi l'abbiamo scoperto. Ottimo, ottimo. Mi porterà un po' di tartufo a casa? Certo. Questo è buono il riso, poi vediamo dopo. Tutto sommato non è valsa la pena. Ma certo, va. Anche quest'anno nella capitale del Tartufo molisano si è registrato un numero più che confortante di presenze. Ai visitatori in villeggiatura nei centri turistici a cavallo tra Abruzzo e Molise si sono infatti aggiunte le centinaia di persone arrivate a bordo del treno del Tartufo. I 450 viaggiatori che arrivano più o meno dal centro Italia ma anche dal centro nord. La gran parte sono romani, sono laziali, ma anche abruzzesi, umbri, marchigiani, qualche bolognese, miliano. Il lavoro che stanno facendo i ragazzi delle rotaie per quanto riguarda la Sulmona Carpinone è un lavoro importantissimo perché porta nuova linfa sul territorio e il territorio si deve preparare, si sta preparando ad affrontare nuovi visitatori, nuovi viaggiatori e nuovi ospiti che vengono qui da noi. In viaggio sulla Transiberiana d'Italia anche l'inviato speciale di Mediaset Marco Palma. Molise è una terra meravigliosa che stiamo scoprendo anche andando in moto e se posso lanciare un messaggio soprattutto ai giovani è venite a trovare, a visitare questa terra, non solo perché c'è gente per bene, ma lo dico con il cuore, ma perché i posti sono veramente belli ed è un peccato perdere queste occasioni. Posso lanciare un messaggio agli imprenditori? Fatevi conoscere, fatevi conoscere di più perché se avete l'oro in mano e non sapete valorizzarlo, noi veniamo, però cercate di darci una mano perché l'economia di questa regione possa davvero decollare. La vacca argentina invece è stata organizzata dall'orso delle vigne a Acquevive, sentiamo. Pietro Di Maria, dunque la sagra della vacca argentina sta appunto affettando proprio un quarto, perché questi sono quarti. Un quarto di manzo, sì, stiamo affettando, bella grassa, con una lunga cottura, da stamattina alle 5 che cuoce, quindi rimane una carne che rimane tenerissima. Senti, tu sei qui a dare una mano a tuo padre Luigi, tuo zio Domenico, però in effetti c'è anche un'altra attività, questa volta al mare, no? Al mare, me ne sono andato dalla montagna al mare, abbiamo un ristorante a Pescara, la griglia dell'orso, siamo rimasti anche in tema con l'orso. L'orso è a casa di Maria. D'obbligo, d'obbligo l'orso. E' d'obbligo, quindi a Pescara dove sta esattamente? Siamo vicino allo stadio, in via della Pineta, e riproponiamo la nostra stessa cucina della tana dell'orso, adesso l'orso delle vigne e alla griglia dell'orso. Quindi Pietro, questa sagra della vacca argentina che era nata alla tana dell'orso, poi insomma per note vicissitudini, tuo padre si è trasferito qua in località Acquevive, però insomma continua questa tradizione? Continua la tradizione della vacca argentina e speriamo di portarla anche a Pescara, sul mare facciamo assaggiare questa ottima carne. Come va la carne al mare? Va bene, va bene, non solo pesce, quindi anche la carne ci vuole. Poi fatta sempre alla griglia? Fatta sempre alla griglia, sempre alla griglia, i formaggi sempre di nostra produzione al nostro caseificio La Treccia, i primi fatti in casa e continua la nostra cucina. Un'ultima cosa, però non finisce qui con l'orso delle vigne perché insomma ci sono anche altri appuntamenti. Ci saranno anche altri appuntamenti durante tutto questo fine estate ormai, tutto agosto ci saranno altre serate e potete trovarle sul nostro sito e c'è il nostro programma. A Frosolone il Comitato Feste Religiosi ha organizzato un evento dedicato ai più piccoli, oggi la terza edizione di Fantasticherie nel Borgo, nei vicoli e nelle piazzette, giocolieri, trampolieri e mangiafuoco con tutto quello che può divertire i bambini. L'evento che si protrarrà fino a sera è organizzato dal Comitato Feste Religiosi che mira offrire svago e coinvolgere anche le famiglie. È evidente che Ferragosto per la provincia di Sernia equivale a montagna, ci dice qualche località in più in questo servizio. Enzo di Gaeta. Appuntamento d'obbligo con il Ferragosto e con la montagna domani in provincia di Sernia. I requisiti ci sono tutti. Il bel tempo che domani regnerà su tutto il territorio alto molisano insieme alle temperature che saranno gradevoli, bel lontane dall'AFA degli ultimi giorni. La perturbazione di venerdì e sabato è servita a far scendere i gradi di quel tanto da rendere perfetta la combinazione di sole e caldo. Insomma una cornice perfetta per organizzarsi e raggiungere le classiche mete montanare del Ferragosto in provincia di Sernia. Si comincia con la più gettonata, quella di Staffoli, raggiunta ogni 15 d'agosto da migliaia di visitatori, organizzati anche con tende e cucine da campo. Stesso discorso per Prato Gentile a Capracotta, anche qui previste migliaia di presenze. Poi nell'ordine Valle Fiorita a Pizzone, il lago di Castel San Vincenzo, la montagna tra Frosolone e Sessano, dove in ogni radura ci sarà qualcuno che cucina il suo arrosto da campo. E così anche a Chiaosci, a Santo Nofrio o sulla montagna di Santa Lucia a Miranda. Insomma, in tutti gli angoli verdi dell'Alto Molise, domani ci sarà qualcuno che farà festa, mangiando e bevendo allegramente. E l'invito che Polizia Stradale e Carabinieri rivolgono a tutti è quello per ogni gruppo di lasciare che almeno una persona rimanga sobria. Perché domani ci saranno pattuglie in ogni angolo dell'Alto Molise, munite di etilometro, per controllare i fumi dell'alcol ai guidatori, ma anche per evitare tragedie. Niente riposo quindi per Carabinieri, Polizia Stradale, Finanza e Vigili del Fuoco, che dovranno garantire un 15 d'agosto tranquillo e sereno in ogni angolo della provincia di Sernia. Noi ci fermiamo, vi lascio alle previsioni del tempo, ci vediamo tra mezz'ora circa per gli aggiornamenti. Per ora è tutto, grazie e a più tardi. Grazie a tutti.